insomma si ragazzi la vita va avanti tutto bene insomma che vogliamo di insomma si sappiamo vincere abbiamo vinto l'ultimo post partito ho iniziato ridendo perché abbiamo perso stavolta rito perché abbiamo vinto ragazzi abbiamo vinto cioè ma veramente abbiamo vinto beh oddio bisogna vedere anche come abbiamo vinto perché non è stata una prestazione chissà quanto brillante però uno non è che può avere tutto dalla vita però quindi insomma poche parole mi tengo sta vittoria ma abbiamo vinto abbiamo vinto cioè dovrei fare più spesso le canzoni che appunto riprendono il periodo negativo dicendo non vinciamo più perché magari possiamo torno a vincere è vero che non è ancora finita perché effettivamente manca il ritorno però vedevo ancora salutare giustamente e signora se benvenuti in questo nuovo video qui è pablo giallo rosso la roma vince per 1 a 0 contro il dent tanto ho sputato tutto il belgio che succede ragazzi che carles peres carles peres mantiene le aspettative perché abbiamo visto nelle ultime partite dove la roma ha fatto ridere polli oggi ripeto non mi ha fatto entusiasmare però almeno abbiamo vinto non facciamo sempre i soliti pessimisti no a creare catastrofi abbiamo vinto abbiamo giocato un po male secondo me alcuni giocatori sono ancora dei morti viventi e lo confermo per esempio pellegrini oggi ha fatto un'altra partita scandalosa diciamolo per cortesia ok perché non è che nessuno parla di alcuni giocatori solamente per dire che il nuovo tot è lui il vero capitano diamogli la fascia diamogli il 10 ok perché ho sentito voce anche su pellegrini di questo oggi pellegrini come anche nell'ultima uscita sta facendo schifo schifo è stato fischiato ho sentito appena uscito ok però questo è un altro tema un altro discorso se è giusto o meno però sto dicendo ai giocatori che al momento stanno continuando a non giocare per esempio coloro nemmeno mi è piaciuto cristante il campo è come se non ci fosse il ghente un'ottima squadra e al ritorno dovremmo soffrire quindi io non è che sono molto contento del risultato di oggi dico sì sono felice perché la nuova è tornata a vincere dopo un lungo periodo tipo quasi un mese praticamente quindi dico sono contento perché abbiamo vinto però dall'altro lato sono anche abbastanza spaventato perché perché 1 a 0 si in casa nostra quel ghente comunque si sa giocare a pallone l'ha dimostrato oggi poi tu ma in belgio ok in casa loro e il gol di svantaggio solamente uno è e quindi se sarà dura tocca tocca mettere più cattiveria in campo perché oggi abbiamo segnato su errore loro praticamente bravo poi si gioca innescare carles perez che è freddo davanti al portiere carles perez che nell'ultima partita sta giocando molto molto bene anzi lo dicevamo perché lo manda perez al posto di klivert o di un der che veramente sono due non giocatori in questo momento anzi un der è tutta la stagione che un non giocatore manda carles perez visto che entra e spacca la partita è quello che ci mette più voglia e chi ha forse che mette in atto cose più qualitativamente parlando importanti e oggi infatti è stato uno dei migliori in campo insieme a gioco che è quello che costruisce la manovra indietreggia anche abbiamo visto proprio nel primo tempo l'importanza di avere un ed in gioco proprio una delle primazioni vanno stanno ancora solo 0 a 0 il pallone che viene gioco a recuperarlo nella propria metà campo è pressato da due giocatori dietro quindi non può sta spalla alla porta nella nostra metà campo non può girarsi e far ripartire la roma è pressato le linee di passaggio sono chiuse che fa allarga il gioco sulla sinistra che spinazzola con spinazzola per spinazzola che poi ha tutto il campo per andare perché come diceva anche il telegronista giocavano a tre a centrocampo stretti e lasciavano le vie laterali libere ok questo è appunto l'essenza di avere di gioco in squadra per questo dico che oggi gioco con carles perez sono stati i più i più positivi però ti ha provato qualche volta a mettere qualche palle interessante al centro a puntare l'uomo però vedo ancora una roba confusa confusa per questo sarà importante adesso ripartire da questa vittoria che non ci ha dato la sicurezza di passare agli ottavi di finale che però almeno a livello di morale ti dà un qualcosa in più perché dico ho vinto o so pure fallo riesco a vince e quindi magari nella nostra partita possiamo dire o avere questo sblocco mentale forse anche se leggevo qualche articolo del giornale dire che i calciatori non pensavano non pensano sia un problema mentale per me è un problema mentale poi ripeto quello che dico io è fuffa magari ok oggi però ho visto una roma che comunque sia intanto è partita la gola no è andato già in belgio a fare la trasferta che ha dimostrato che pur giocando male si può portare a casa un risultato ora però iniziamo anche a giocare bene per cortesia perché non è sempre domenica anzi oggi è pure giovedì allora penso che questo video possa venire qui lascia un like commenti iscrivetevi da Pablo Giotto Rosso è tutto adios